Un'iniziativa pre-natalizia nata dalle donne per le donne. È infatti la quota rosa di CNA Impresa a promuovere per il terzo anno consecutivo la cena di solidarietà. Un'occasione per passare una piacevole serata aperta a tutti coloro noi fossero interessati e soprattutto sostenere una buona causa. Come consueto, anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, CNA e il Comitato Impresa Donna, appunto, ha organizzato la cena di solidarietà che si terrà l'11 di dicembre nella location di Portolotti al ristorante La Rada. Questa cena di solidarietà quest'anno viene effettuata a parte per la convivialità, appunto, ma soprattutto per dare un aiuto concreto alle donne in difficoltà. Dopo la solidarietà al Centro Antiviolenza Irene del primo anno, a quella degli amici di Elsa impegnati nel volontariato ai disabili dello scorso anno, le donne di CNA tornano a sostenere la causa della difesa femminile. Per quest'anno, infatti, l'attività di raccolta fondi sarà a sostegno del centro mai più sola dell'Associazione Vittoria di Sarzana. È un centro di ascolto che cerca di dare una risposta alle richieste di donne e vittime di violenza di genere e è un punto di ascolto che quindi prevede la possibilità di fare colloqui con volontarie che possano offrire un primo ascolto, richiedere altresì un sostegno psicologico e legale che il centro è in grado di dare da parte delle professioniste che, come tutte le operatrici, sono volontarie e offrono la loro assistenza per il centro e per le donne che si rivolgono al centro. È un punto di raccolta per le istanze di quelle donne che, fino a quel momento, hanno pensato di essere sole. I servizi a sostegno delle difficoltà femminili sono sempre più presenti sul territorio e aumenta anche il numero di donne che ne esufruiscono, centri che si basano sul lavoro volontario e che per questo necessitano di solidarietà per crescere e sopravvivere. È un centro retto in tutto e per tutto dall'apporto volontario gratuito delle operatrici, delle avvocatesse, delle psicologhe che danno una mano in questa forma. Non esiste altra linfa che non la beneficenza, la donazione a titolo gratuito di chi si mostra sensibile a queste problematiche. Un genere di violenza di cui ci occupiamo.